Consigliere Pettinari, c'è stata una visita ispettiva che lei ha fatto nei giorni scorsi all'ospedale di Pescara, ha riscontrato delle criticità e per questo ha presentato un'interpellanza a risposta orale al Presidente della Giunta. Sì, intanto parliamo del reparto di oncologia medica e del The Hospital di Oncologia Medica. Abbiamo scoperto che alla ALS di Pescara manca un percorso delle cosiddette cure palliative, che significa che quando il malato oncologico entra nel reparto gli vengono somministrate delle cure attive, poi basta, più di quello non si può fare, quindi il malato deve rientrare nella propria casa e lì ci servirebbe un'equip che somministra delle cure palliative, vale a dire un medico esperto in cure palliative, uno psicologo, un sociologo e un assistente spirituale addirittura. Mancando questo, cosa accade? Che il malato deve rientrare, quando si sentirà nuovamente male, deve rientrare necessariamente in pronto soccorso e quindi il reparto e ingolfare il reparto. Un'altra cosa importante, abbiamo visto che i malati che si sottopongono a chemioterapia stanno in un'unica stanza, otto persone, quasi ammassati. Una situazione difficilissima, almeno in riferimento a quel reparto. Io adesso mi recherò in sopralluogo proprio in quel reparto, perché la Commissione Sanità ha deciso di fare questo sopralluogo e quindi verificheremo di persona qual è la situazione. Purtroppo, credo, mi dispiace dirlo, ma non credo che sia solo esclusivamente quel reparto, ma anche altri reparti che avevano problematiche di questo genere e che sono già state denunciate in altre situazioni.